buon pomeriggio a tutti cari amici ebbene in questo nuovo video di oggi lunedì 10 febbraio parliamo di apulia trani calcio femminile le nostre ragazze hanno perso purtroppo contro il cadanzaro e la classifica anche se siamo ancora in zona salvezza si fa più stretta perché la puglia è quarto ultimo la dream team è terzo ultimo 8 punti zona retrocessione la roma decimo quarto 8 punti la real bellanda 7 punti il cadanzaro invece è proprio dopo la puglia trani a quota 15 punti comunque nella prossima giornata le nostre ragazze saranno impegnate rispettivamente sul campo della sigla leoncio woman che al momento occupa la sesta posizione a 27 punti quindi speriamo che le nostre ragazze possano ottenere qualche punto chissà magari tre punti e chiudo ricapitolando la puglia trani perde ai nuovi in casa contro il cadanzaro per 1 a 0 ciao a tutti